Chiusura e disattivazione di tutti i social. Mi prendo decine di insulti e minacce di morte tramite la condivisione del mio numero di telefono ormai sputtanato ovunque. Stacce. Capisco anche la lontananza di tutti i miei partner commerciali a causa della mia grossa cazzata fatta senza senso. Stacce. Non ci sono scuse per la mia azione deplorevole. Frate, come diceva Caressa? Come diceva Caressa? Quando il pasticcio è fatto? Pu, cioè, sono lacrime da coccodrillo, perché se tu prima ti rendi conto dei contenuti che offri, smetti prima, non chiedi scusa dopo. Cioè, perché in quel caso non c'è, cioè, sono tutti buoni a chiedere scusa nel momento in cui te becchi, cioè, nel momento in cui te becchi quello sbagliato. E nel momento in cui effettivamente uno si mette davanti alla ragazza e te fa capire, sì, cioè, quello che fai è vergognoso, eh. Soprattutto per una persona che ha 66 anni, non lo so quanti anni c'ha. Eh, sì, quello non è, non... Non ci sono scuse per la mia azione deplorevole, non cerco di nascondermi né di segnalare il video, e non sono responsabile di azioni altrui che agiscano per me. Eh, sì, eh, se esiste una pena da scontare qualcuno me la dica, basta i passi di questa tortura mediatica. Eh, soldi, 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 e se non c'hai soldi va in galera. DL, mo'ha capito, mo' fa diventare DHL, o fa diventare quello che porta i pacchi. Mi ha intimato di non volere scuse da me, ma voglio scusarmi con voi della community, cazzaro. Vi chiedo di darmi del tempo per stare fuori da questo ciclone e riflettere, senza accanirvi ulteriormente. Fatemi il favore di non tempestarmi, non chiamate anonimi e messaggi privati con insulti. Chiunque abbia a cuore la mia sorte pubblichi questo post nelle storie social per far capire a tutti il mio disagio per aver creato questo disagio. Frate, ma guarda che quando si soffre per delle cazzate, spesso si soffre in silenzio, si soffre a testa bassa e da soli. Soprattutto se si è causa del proprio male. Quindi non ricondividete nelle storie quello che ho scritto. Ma che è? Altro spam, che cazzate di miei. Ho sbagliato, ma non fatemi passare per un mostro anche se ora mi vedete come tale. Beh, hai fatto una cosa da mostro, quindi è giusto che passi per mostro, nel senso. Basta, sì. Spoiler, ha segnalato il video. Omega Lul. Ma, no, vabbè, non penso, non penso, è probabile che siano arrivate delle segnalazioni a Danny Lazzarin, ma saranno l'altra parte, cioè l'altra, l'altra community, l'altra sua. Guarda le storie. Perché arriva la segnalazione di video di YouTube, ti arriva come email o in dashboard. Quindi se adesso io apro le storie di Danny Lazzarin e c'è il suo canale, il suo nickname, YouTube, segnalatevi. Ale Ciccio, Noemi, Ale, Ligio, Alex, Sanku, bentornati. Daniele, Andrea, Genico, bentornati. C'era ieri, l'ha messa ieri nelle storie? Eh, non so. No, undici ore. Ci posso dire, se reagisci, passi da colpevole. Per quasi due anni, due anni ho sopportato, ho chiesto di non essere nominato, ho chiesto di non essere nominato, ho chiesto di non essere nominato, ho mai fatto video parlato di questo, ho chiesto di molto, ma nulla. La risposta di ricevere era sempre, i miei fan chiedono, io devo dare. L'unità e il rispetto erano sempre stati messi in secondo piano. Quello che è stato fatto a me è stato fatto a tantissimi altri, c'è chi ha dovuto chiudere il canale per i suoi accadimenti, c'è chi ha provato a rispondere. Ammazza, ma questo che c'ha la fanbase, il suo porco di Cristo, di Dio. Quello che è stato fatto a me è stato fatto a... C'è chi ha provato a rispondere, ma senza successo, e questo probabilmente aveva portato questo individuo a credersi intoccabile e sentirsi in diritto di trattare gli altri come fossero oggetti. La frase che più mi colpì, presenta ancora oggi su YouTube, fu questa. Fu, questa è una partita a scacchi e voi siete le mie pedine. Bro. Cioè, sì. Capisci perché il mio discorso del momento in cui, ahimente, si è messo contro una forza più grande di te, le tue scuse non solo non valgono nulla, ma anzi sono l'ennesimo atteggiamento tossico che stai avendo. Cioè, il fatto di ancora una volta, nel momento del silenzio, tu vuoi prendere e portare attenzioni alla tua figura. O-M-G-A-L-U-L Cioè, sei proprio... non sei un mostro, sì, sei solo... Boom baby bye, boom baby bye, boom baby bye. Sei solo un... Jammo. Letteralmente un cumulo di miseria. Sì. La gommia pubblica è una cosa sbagliata. La gommia pubblica è una cosa sbagliata, dipende. Ti uccido, ti ammazzo di botte. Non ha detto letteralmente nulla, anzi, ha anche fatto notare che lui non ha caricato nulla, eccetera, eccetera. Se non quella live disgustosa, eccetera, e bla bla bla. La gommia pubblica è giusta. Cioè, se tu fai qualcosa, la gommia pubblica... Ovviamente non deve essere gente sotto casa, insulti di morte, auguri di... 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 boh, di morte dei parenti, eccetera, eccetera. Però, frate, è giustissimo, stai sui social, stai sui social, fai una cazzata, te prendi, appunto, l'ho detto prima, 48 ore di merda. Ti prendi. E la cosa più triste, in realtà, è che di queste situazioni si parla troppo poco, perché questo, adesso, fa due mesi senza caricare nulla, torna, e c'ha metà, magari metà, del gente che ancora si ricorda, sì, ma ha l'altra metà che si è già dimenticata. Si è sempre sentito libero di poter parlare di cose private di chiunque, ma se è solo problema di rispondere, ti faccia segnalare i video fino a farlo rimuovere. Quello che sta passando lì non è altro che un qualsiasi altro giorno, è passato da una delle sue vite. Sentirmi dire che forse quello che sta passando, che sta passandolo, è troppo, lo trovo ridicolo. Se al posto di Lisa ci fosse stata una ragazza più fragile, cosa sarebbe potuto succedere? Davvero, prima di reagire, dobbiamo aspettare un atto fatale. Con questo, però, vi chiedo di non fare nulla, di non attaccarlo verbalmente, di non scrivere, di non... che è giustissimo, che è giusto, nel senso, tutti dovrebbero fare questa cosa, anche io devo dire questa cosa, è inutile che le persone si prendono e si accaniscono, ma succede, succederà lo stesso. Perché? Perché ahimè, c'è una gran parte, soprattutto nelle comuni di persone grosse, che sanno usare il proprio cervello e che, ahimè, vedono nel momento in cui c'è una situazione che è disagiante. Alle 16.30 farò una live per mettere il punto a questa terribile vicenda. Eh, live Instagram persa, l'ho persa, Danny, mi dispiace. Ciao a tutti.